Bene ragazzi io sono Martex bentornati su un'altra guida di Fortnite Si comincia con le sfide spray and pray e la prima ci dirà di utilizzare un qualsiasi spray su una fontana Una gru e su una vending machine quindi un distributore ragazzi Il primo luogo che vi consiglio di visitare è Grandi Magazini Perché come potete ben vedere la fontana si trova proprio qui sotto Sprayiamo così a random e siamo già uno su tre Come secondo luogo invece ci richiamo a Crocevie del Charpam Perché la gru sarà proprio questa qui ragazzi Quella lì con il cagnolino di metallo Andiamo a sprayare anche qui a casissimo ragazzi via Se non lo dovesse contare vi consiglio di scendere e provare qui raga Quindi proprio ai pali che reggono l'insegna Fatta la gru rimane solamente la vending machine Con le vending machine c'è un problema perché io magari vi posso mostrare tranquillamente questa qui che si trova all'interno di Crocevia Però non è detto che vada a spawnare in ogni partita In ogni caso ragazzi qui ne avete subito una E quindi ovviamente di conseguenza sprayate anche su di lei Ed in questo caso avete completato la missione Quindi siamo passati per la fontana di grandi magazzini La gru di Crocevia e poi la vending machine all'interno di Crocevia Inutile dire che la mappa sia sommersa da queste macchinette Le trovate praticamente ovunque In questo caso però ci vorrà un pizzico di fortuna Perché magari non spawnerà nella vostra partita Magari sarà stata già utilizzata da un altro player Quindi ragazzi dovete solamente avere pazienza Qui ne troverete un'altra quella lì centrale ci sarà sicuro Un'altra super isolata che vi consiglio è quella lì sul mini molo di spawn del saccheggio Un'altra ancora alla sinistra di laguna ragazzi Proprio vicino al furgone del reboot Si troverà qui e devo dire che quella è una di quelle macchinette Che spawna quasi sempre Un'altra che mi ricordo è alla destra di impianta a pressione Ragazzi salite da scalini scatenati E vi legate in questo preciso punto Io comunque spero di esservi stato d'aiuto Se così fosse mi raccomando un bel like al video Condividetelo con tutti i vostri amici E soprattutto se ancora non siete iscritti Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo molto ma molto presto in un'altra video guida Un saluto da Martex See ya, brother